Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura su Brothers in Arms, Road to Hill 30. E siamo rimasti bloccati in questo... massacro. E cosa volevo dirvi? Allora, sì, volevo dirvi un paio di... no, ci stiamo massacrando. Allora, volevo dirvi un paio di cose, visto quante missioni più o meno mancano con questo, che stiamo facendo ora dovrebbe essere un po'... tipo 4, o una cosa del genere. che è incoraggiante che lo stiamo... finendo. Beh, ma quella 4 missioni, insomma. Non bastardo al mare. Uh, l'ho preso, Gams. Allora, c'è rimasta una squadra sola, a quanto pare, eh. Non è una cosa... ah, bella. Il resto è anche perdendo, che bello. Allora, se riescono a prenderli per la... sì... Porca puttana, allora... Eh, no, 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 ha fatto un'azione veramente... Lasciamo stare, eh, che è meglio. È un'azione veramente brutta. Eh, mi sa che devo ricaricare. Non ce la facciamo così. purtroppo purtroppo mi sa che non ci riusciamo purtroppo sei morto e ora manca l'altro e l'altro ma qua madonna quanti ce n'è no ragazzi c'è quanti cazzi ce n'è carica venite qui perché ce n'è anche dell'altro io sono tipo mezzo morto ma vabbè dai bisogna fare qualcosa non è ancora ben chiaroso non mi ricordo io ci sta allora io però là ritiro un'altra granatina no ma come sarà allora se loro riescono a fare un fuoco di sbarra mi dico va io potrei avanzare c'è anche l'M-52 mi sa là e sto pronto e farli fuori eh no ci rimassero eh no avevo non credevo che erano così tanti più che altro non credevo che erano pochi tipo due e invece a quanto pare no allora fermi mettetevi qua invece di stare nel mezzo e farvi colpire per cretini esatto che deficiente no c'è una mira ah perché mi va la stacca di mira cioè uno è morto qui l'altro è morto eh però sta già andando meglio comunque la cosa oh cazzo ok vabbè mi hanno preso però sono ancora vivo no calmiamo uno è morto ora l'altro dovrebbe spuntare da qua che è morto però mi sa no non è morto ora e ne manca uno ovviamente non me lo fa vedere classico no ma che cazzo vabbè no cioè cioè spero così a distanza avvicinata e non me lo piglia ma chi è cioè madonna aiuto ma non è così se copia a me quando non non vanno come cavolo che lo vedo ecco vedi così va già meglio ok promettemi ecco buono buono questo è buono ragazzi però ora devo riuscire a riuscire eh che cacchio cioè ma poi cioè ti pigliano ti dispari a distanza la bc che cazzo che mi piglia no mi dico è quello lì perché ragazzi qui è è colmo eh semplici tutte le palle eh top ma che cazzo scusate però è un giù fate fuori quei mortai ah i mortai che bello interessante la cosa eh i mortai sono un po' gnonantelli eh i mortai sono abbastanza ignoranti eh perché siete tonti non dovete voi dovete venire qua qua dovete venire eh sì un po' un po' macchinoso l'unico difetto diciamo di questo gioco è che è un po' un po' macchinoso diciamo per l'epoca era quello che era bello insomma però se lo va a vedere adesso è un peccato se l'ho presi è bellissimo la prima volta è che centro centro e ammazzo tutta un'intera squadra squadrone chiamatela come volete con il mortaio vedi vedi che bastardi non muoiono con due colpi eh non non muoiono non muoiono non muoiono con due colpi ci vogliono 3 o 4 colpi di fucile pensate allora dov'è il tenente ah eccolo qua e abbiamo finito questa visione quindi meno 3 praticamente cioè se che questa è che sono fissati con questa fattoria via c'è poco da fare sono fissati con questa fattoria sicuramente ora proteggi la fattoria dall'attacco di tesi ovviamente no era ovvia la cosa no eh sono fissati con queste fattorie ci è poco da fare ci è poco da fare stavo dicendo che mancano poche missioni perché dovrebbero mancare tipo in teoria ma se io li tengo e voi andate a massacrarli no eh eh no via devo prenderli sui fianchi dobbiamo fare tanto c'è anche gente di là vabbè via bisogna prenderli sui fianchi ecco bella che ci fa quindi quattro missioni compresa questo vabbè dai lo finiamo anche per natale no vabbè prima di natale no però insomma per il periodo natalizio lo finiamo io voglio capire perché la cosa ganza di questo gioco è che i nemici hanno una dicevo i nemici hanno una precisione chirurgica nel colpirci poi invece andiamo noi allora mi dà così no questa cosa mi non sta sicuramente bene è comunque questa cosa dà fastidio dà fastidio sicuramente dà dà fastidio e non è bello e non è bello ecco vedete però l'ho preso però l'ho preso oh però li sto prendendo allora fate fuoco la mentre io ricarico li faccio fuori da questa posizione qua to to vai a posto pensavo che era peggio sinceramente pensavo che andava peggio la situation qua invece no tranquilla ce l'abbiamo fatta bene quindi di qua no dove siamo dove è il ah eccolo qua è arrivato dopo ottimo lavoro sergente davvero ottimo possiamo tornare alla fattoria ancora madonna ah ora mi immagino cosa c'è per il campo di grano qui eh me lo immagino cosa c'è qua che me lo immagino ma adesso un po' in copertura che è meglio no magari no andate laggiù me lo immagino la cosa c'è da attenderci una fattoria no nulla perché quello l'abbiamo conquistato eh infatti conquistate con questa fattoria va bene che sarà un punto strategico importante per là ah no è vero bisognava salvare lui che era incasinato con abbiamo svegliato il can che dorme i cruchi sanno che la postazione di comando è qui e stanno per lanciarci addosso di tutto di tutto non facciamoli passare andiamo il cazzo è che siamo quattro gatti ragazzo eh qua starebbe bene una bella mi servite laggiù ecco di qui che cazzo sono quelli da quella parte cioè ma tipo una postazione di una mitragliatrice no è vero una donna copritemi sto ricaricando sì il problema è che loro dovrebbero farne pochi sbaramento là sì che lo può colpire dioboni dai cioè ci compisco loro e non lo può colpire se sei impugnato eh o giù io li vado da girare e però se sta cacchio giumina non ballasse così tanto forse riuscirei anche perché perché non può non può allora non puoi non può come dire no eh che sai che ora ci arriva il cararmato eh ci imbadono con il cararmato se lui dicevo stavo dicendo se lui può scattare sarebbe una cosa molto c'è una granata io le la butto sperando a zeccarli uh bella questa però cosa è che non ne ho ammazzato nessuno ma ne approfitto per andare di qua porca troia devo proprio ricarica ora ora non andare laggiù cretino mi devo farla vittorica l'idio orto fofo eh vabbè siete tonti io fai di là non devi andare di là dove sono stagli per modi deficiente Allora Oh, non si riesce a prendere Oh, bene Tutti morti, no Arrivano altri? Porca troia, sì Che cazzo Questo era uno dei miei Non ne ho visto Oh, madonna Vabbè, si riparte di qua Purtroppo non essendoci Il salvataggio Manuale Ma va al checkpoint Purtroppo Questa è la È la situazione Felice di rivederla, signore Ma no Per favore No, no, no Facciamoli passare questi maledetti Eccoli qua Allora Allora Vediamo un po' Eh Eh ma Fate fuori quei crocchi E non capite il fuoco Ok, posso Andare Cercare di aggirarli Questa qua Non c'è un muro Nemmeno Appagarlo Ok Oh Dio Cristo No, no, no Abbiamo perso Questa è persa Perché loro si stanno spostando Questi deficienti Questi deficienti Si stanno spostando Che ovviamente capiscono male i comandi Perché insomma Vai Che si danno male un po' Comandi È un po' Troppo Precisissimo Ma siete voi? Ok Salve Ok Allora Lo vedete Che Non si fanno male Cioè Non sono precisi Quando dai il comando Quando dai il comando Di fuoco Non sono proprio precisi Un po' Di deficienti Dove Abbiamo fatto Meno male Pensavo peggio anche qua Sinceramente pensavo Di aspettarmi Il mondo Addirittura Con un carro armato Con la misriatrice No invece Tipo Un paio di ondate Tre quattro ondate Meno male Meno male Perché non è che Hrm messo bene a salute Però Andate bene dai Missione completata Per lei e i ragazzi Erano in cantina È Calvados Un brandy di mele Riposatevi ragazzi Domani entreremo A carentan Ah Meno male Abbandoniamo la fattoria Finalmente Molto bene Vediamo Cosa ci aspetta ora Irruzione a carentan L'ho osservata Per giorni interi E i cruchi In quella maledetta città L'orizzonte Ci osservavano A loro volta Sapevamo tutti Che per quanto duro Fosse lo scontro Arrivati a carentan Sarebbe stato peggio Siamo rimasti Solo in sette E cerco di non chiedermi Quanti altri moriranno oggi Nessuno Non ho mai detto Che la guerra è facile Se l'avessero fatto Probabilmente Ci sarebbero Molte più guerre Già La guerra non è facile Ragazza Baker Dobbiamo ripulire Questa città E in arrivo Un'altra squadra Da sud Sono messo peggio Di voi ragazzi Quindi io attaccherò Con loro Quanti cruchi Quelli che rimangono Non ne siamo sicuri Mi fido Baker Ok Andiamo Leggett Non è più incoraggiante Come una volta No Proprio no Questa è la zona industriale Di carenzano Va bene Che è Presumo Infognata Ma non è anche vicino Venite qui Stavo peggio Allora Ovviamente Stavo Ah E' Una mitragliatrice No 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 Venite qui Venite qui Cerchiamo di aggirarla Meglio Questa cosa Che Non puoi Questa cosa Che non puoi Fandare in copertura Che cazzo Non ti ho preso Oh Fandculo No vabbè Io ce l'ho capito L'ho vaffanculo Scusate Però Eh Quando è così No no Voglio saltarlo Si può saltare? No Perfetto L'ho osservata Per giorni interi Ehm Quindi terz'ultima missione Se non sbaglio Ah Adesso Credo almeno Dovrebbe rimanere Questa E altre due missioni Se non ho visto male Dalla Dalla selezione Dei Dei capitoli Se l'avessero fatto Probabilmente Ci sarebbero Molte più guerre Quindi passiamo Anche Finirlo nel giro Di due Tre Puntate Non credo di più Almeno che non appare Il fango disumano Che rimane bloccati No questa cosa Che non si può andare In copertura Modino E che loro Appena te Sbunchi Fuori Ti prendono Mi fido Eh Poi uno dice Sai ci sono comunque Tipo C'hai il medico Che ti cura C'hai Il medico Che ti puoi trovare Il giro Come appunto era Medal of Honor Qui giochi di una volta Oppure Si recupera da stella La salute E' un altro paio Di divani Insomma E invece No Praticamente Purtroppo no Facciamogli vedere Chi siamo Purtroppo no E quindi bisogna 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 fare Che cazzata Sì Eh ho capito Che palle Che palle Che palle Ma io butto la granata Se ce l'ho Ho due Fanculo Eh La mia voglia di sta qui Perde tempo Io Eh Un po' uno Viene anche a noi Un po' uno E' un po' uno Ii Non l'ho preso! Ma che cazzo fa? Sei... Un po' di tonti! Sei... un po' di tonti! Continuate a martellarli! Madonna, ragazzi, che idioti! Ma vedi, ti prendono! Ti prendono! Ti prendono! Ti prendono! Che è una cosa allucinante! Loro non li prendono! Che testo! Vabbè, basta, eh! Che che mi spara? Ah, quelli no! Eh no, bisogna essere passati qui! Demente! C'è altra soluzione! Non so se l'ha capita! Non so se l'ha capita! Questa cosa qua, eh ragazzi! Ora mi sono rotto le scato! Ora io di stare qui a... ...dicare di colpirlo con... Terza squadra! Come... Re! Eh, scusate, però... Ok! Ho dieci decimi! Non potete nascondervi! Avete sentito? Mi servite laggiù! Ok! Ok! Si può passare oppure no? No! Sai che bisogna... ...farci... ...strada... ...vera... ...chiara, no? Red! Andate laggiù, presto! Andiamo! Eseguo! Prendete quella posizione! Corio! Veloci laggiù! Ok! 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 Spostatemi da... Corio! Andiamo! Oh! Yoooo! Vado! Toff! Ah, dove l'ho presi! L'ho buttata lì! Sta cosa che non si fa andare... ...il copertura... ...veramente... ...iè... ...pesante! Molto pesante! Molto molto pesante! E' un po' anche io mi stanco eh ragazzi di questa situazione qui, insomma, eh porca puttana. No, no. Senta la solito, la solito, la solito aperto. E' andato a morire. C'è, lo vedete? Vabbè, allucinante. cazzo di mirino madonna che non funziona ma nemmeno se se preghi è il problema che loro mi dovrebbero fare uno di là e l'altro di qua in modo comunque da farmi avvicinare e fare in modo mi... cioè mi dovrei nascondere che questi appena mi vedono mi prendono mi provo a correre c'è un'altra soluzione correre correre tra virgolette eh caricare oh oh allora io ancora non ho capito dopo dopo tipo 13-14 episodi quanto ne abbiamo fatto noi di questo gioco no? è mortale cioè a me queste cose mi fanno innervosire mi fanno veramente incavolare a me queste cose qua magari so io che mi do male però insomma che cacchio non c'è più non c'è più che cosa l'ho che cosa non c'è più mi serve un fuoco orio spostate il fuoco Ma lo vedete almeno Allora c'è una cosa Visto che abbiamo salvato la partita Continuiamo nel prossimo episodio di Brothers in Arms Road to Hill 30 Ciao